carissimi ascoltatori di radio buon consiglio ben ritrovati per una nuova puntata della trasmissione mariana de maria nuncansatis che è giunta alla 21esima puntata stiamo trattando da un certo numero di incontri il tema della diciamo complesso e articolato di maria santissima corredentrice mediatrice avvocata dell'umanità come sappiamo questi titoli non sono ancora oggetto di una vera e propria formulazione definizione dogmatica da parte della chiesa anche se come abbiamo già visto per la corredenzione di essi se ne parla ampiamente non solo tra gli scrittori ecclesiastici ma anche nei testi del magistero abbiamo siamo chiaramente entrando in questi argomenti sempre come doveroso e come quanto mai opportuno per una radio cattolica per un sacerdote che parla facendo tutto questo ovviamente nella chiesa e con la chiesa e sotto la guida del magistero della chiesa la volta scorsa abbiamo visto il se in che senso la madonna corredentrice come interpretare correttamente la corredenzione mariana che è comunque una cosa del tutto singolare esclusiva della madonna e ricordiamo sempre dipendente dalla volontà di dio ovviamente subordinata e a quella di cristo e a differenza della prima non assolutamente necessaria se non in quanto dipendente da un decreto della divina volontà che l'ha resa tale e quindi dobbiamo ringraziare maria santissima perché ha fatto quello che dio voleva ritenendolo conveniente per cooperare con cristo all'opera della redenzione oggi dobbiamo aprire un altro capitolo che chiaramente necessita come già a suo tempo fatto per il tema della corredenzione di una illustrazione di un'introduzione perché oggi cominciamo a verificare e a parlare di maria santissima mediatrice di tutte le grazie dobbiamo certamente comprendere anzitutto il significato del termine mediatore e più in generale la figura della mediazione nella sacra scrittura in generale e nei rapporti tra dio e l'umanità e l'uomo sia come popolo sia come singolo in particolare per poi passare ovviamente da una volta compreso in generale la figura di cristo anche qui unico mediatore tra dio e l'uomo e poi in un secondo momento se e come la mediazione mariana si può concepire come se ne può parlare con preco correttamente il riferimento e indipendenza anche in questo caso dalla mediazione di cristo però con le sue caratteristiche proprie e specifiche noi sappiamo benissimo che dio abita dice san giovanni una luce inaccessibile e l'uomo fino a quando sta su questo pianeta terra non può vedere dio almeno dopo la condizione di decadenza del peccato originale perché qui se vogliamo provare ad immaginarci com'era la situazione prima della colpa d'origine ecco bisogna tornare indietro sia il ciclo di catechesi che ho fatto su radio buon consiglio sulla divina volontà sia per chi è interessato seguire quello che sto facendo non su radio buon consiglio attualmente che è su adamo e la vita nella divina volontà quindi come sarebbe stato non lo possiamo sapere con certezza anche se possiamo immaginarci qualcosa certamente sappiamo com'è dopo e il modo con cui dio si è rivelato progressivamente agli uomini è stato sempre un modo mediato in che senso veniva scelto qualcuno per esempio no è per esempio abramo capo stipile del popolo di israele per esempio ancora più importante la figura di mosè in relazione all'uscita dall'egitto proprio alla prima grande forma di di manifestazione di teofania nel popolo dell'antica alleanza e poi però dopo l'ingresso nella terra promessa josue e i giudici e poi il ciclo dei re e dei profeti insomma che a titolo differente soprattutto i profeti erano sempre delle figure di mediazione quindi c'era dio che si manifestava attraverso ordinariamente una figura di mediazione al suo popolo quindi il motivo è molto molto semplice non c'è un accesso ordinariamente immediato a dio per sua volontà e anche per una condizione diciamo così con naturale alla nostra attuale situazione umana non saremmo capaci adesso come adesso di poter stare frontalmente a contatto con dio non è solo questo ma una delle modalità per cui c'è stata l'incarnazione del verbo è anche che dio ci ha parlato con voce umana si è manifestato in sembianze umane come dire velando la sua gloria dietro la santissima umanità di cristo quindi cioè dio ha dovuto comunque trovare un modo quindi un modo mediato anche in questo caso per entrare in contatto con noi vedremo che gesù è il mediatore per antonomasia tra dio e l'uomo quindi questo è una delle delle motivazioni c'è anche un'altra fondamentale motivazione che è per esempio non è stata fatta fatta è stato diciamo oggetto a suo tempo è doveroso riportarlo trattando di questo argomento pur senza voler fare inutili polemiche però dobbiamo comprendere bene alcune cose no il rapporto con dio nostro è anche personale però quando noi parliamo di rapporto con dio dobbiamo sempre tenere presente una triplice configurazione strutturale dobbiamo diciamo così 1 la dimensione comunitaria dio salva e si interfaccia con gli uomini non semplicemente come individui e come sfere isolate ma come popolo 2 il rapporto diciamo così istituzionale che dio ha con il suo popolo è un rapporto mediato mediato da cosa mediato sia da un punto di vista umano da coloro che hanno il compito di guidare il popolo di decodificare la volontà di dio al popolo guardate questo c'è tuttora nella nella chiesa poi lo lo vedremo e sia anche attraverso per esempio gli strumenti di santificazione cioè la santificazione che noi riceviamo attraverso i sacramenti è una mediazione certamente no cioè tu quando ti fai a fare la comunione mica vedi gesù che ti entra dentro tu vedi l'ostia consacrata quindi attraverso questo tramite sensibile così vale per tutti i sacramenti pensiamo alla confessione ne parleremo tante queste cose forse già in questa stessa puntata ci sono sempre dei medium diciamo adesso medium termine brutto insomma che utilizzato in in ben altri contesti ma delle figure di mediazione o degli strumenti di mediazione certo insieme a questi voi attenzione però insieme a questi e dipendentemente da questi attenzione è necessario intessere intrecciare istituire un rapporto personale intimo dialogico e relazionale con dio non è che non c'è c'è e come guai se non c'è ora sapete che la polemica ormai datata però da dover citare luterana e tendeva a eliminare questo è stato uno dei punti veramente cardini dell'errore grave insomma della riforma protestante tutte le figure di mediazione se vuoi ci pensare il mio rapporto è a tu per tu con gesù e senza nessuna figura di mediazione non riconosco la chiesa non riconosco i sacramenti non riconosco il magistero la bibbia me la interpreto da solo d'accordo la sola la sua scrittura libero esame personale e i peccati mi riassolvo facendo un atto di fede mi metto davanti a gesù dico signore mio sono un grande peccatore ma so che tu mi ami così come sei la tua misericordia mi copra e se io credo profondamente a questi i miei peccati sono rimessi questo sto semplificando proprio alla grande e quindi allora come tutte quanti dobbiamo sempre pensare quando sorge un un movimento ereticale questo dobbiamo anche avere questa sapienza no e il problema c'è quindi c'era sempre un problema storico reale a cui purtroppo sciaguratamente disgraziatamente purtroppo appunto il movimento eredicale ha dato una risposta sbagliata ma il problema c'è capite perché questi tre ambiti quindi l'ambito comunitario l'ambito della mediazione l'ambito personale devono essere equilibrati e compresenti per una vita di fede autentica dovunque tu sbilanci l'ago vai fuori bordo anche se tu per esempio facessi delle figure di mediazione come era successo ai tempi del 1500 delle realtà ipertrofiche che praticamente annullano quasi il tuo rapporto personale con gesù cioè diventa tutto quanto esterno diventa tutto quanto indotto diventa tutto quanto erente esteriore di facciata no non c'è un coinvolgimento personale allora come sempre accade questa categoria oggi è che le cose sempre le stesse c'è un problema anziché cercare una soluzione adeguata boom ci si butta tutti quanti dall'altra parte e io scherzando in più di qualche volta ho detto che dio non è né di destra né di sinistra perché dio è di centro ma non perché gli piace la vecchia democrazia cristiana ma perché l'equilibrio richiede sempre la congiunta ponderazione delle opposte esigenze cioè il problema del rapporto con dio non si risolve tutta mediazione tutta gerarchia tutto magistero tutta obbedienza alla chiesa per per dire no che che è comunque una cosa prioritaria il resto la devozione personale non ce ne importa niente non è che non ce ne importa niente è una cosa importante però deve essere vissuta all'interno di questo ordine di questo equilibrio dobbiamo dobbiamo averle guardate che quanto mai importante oggi comprendere bene queste realtà comprendere bene queste cose ecco cioè io ho dovuto mi trovo più di qualche volta a citare specialmente in questi tempi forse ho fatto anche questa serie di un filosofo che è un filosofo certamente non credente insomma hegel e che tra l'altro col suo sistema combinato insomma non pochi guai da un punto di vista culturale perché hegel sappiamo chi ha studiato lo sa contiene in sé i prodromi degli opposti totalitarismi no sia del dei nazionalsocialismi e fascismi che dei comunismi allo stato puro insomma come si sono poi manifestati purtroppo nel ventesimo secolo ma le radici teoretiche stanno nel sistema di hegel stanno no però ovviamente era un genio anche se l'intelligenza come dire 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 in un certo modo ha detto una cosa che dobbiamo ricordarlo che il vero sta nell'intero cioè avere sempre una capacità di ponderazione di dilatazione delle cose a 360 gradi d'accordo così come per esempio mettiamo subito le mani avanti il problema della mediazione di maria chi si strappa i capelli non la mediazione di maria gesù cristo è l'unico mediatore lo dice san paolo c'è un solo dio è un solo mediatore tra dio e l'uomo l'uomo cristo gesù quindi non cominciamo queste storie perché c'è il primato di cristo tu cominci a parlare della madonna e togli il primato a cristo pum cioè così no dico dico ma aspetta 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 chi l'ha detto che come dire prevedere dei gradi differenti di mediazione significa togliere il primato a cristo chi l'ha detto dove sta scritto questo qui dove sta scritto sarebbe come dire ah va bene siccome i vescovi fanno i vescovi nella propria diocesi allora il papa non è papa perché non è veramente il capo di tutta la chiesa perché tanto nei vescovi che stanno i vescovi no la la dottrina cattolica dice che il papa se vuole può andare in una diocesi e rovesciare completamente quello che ha fatto il vescovo d'accordo perché lui c'è un primato di giurisdizione reale su tutta la chiesa tuttavia non è scalzato questo suo primato dal fatto che ordinariamente agisce con i vescovi attraverso opera il gesù cristo opera sulla funzione di guerra attraverso i vescovi che sono sottomessi e dipendenti dal papa in un certo senso perché sono una reale subordinazione gerarchica ma non è che questo mina il primato del sommo pontefice dove sta scritto il sommo pontefice può esercitare il suo primato in qualunque momento dovunque vuole no quindi capite sarebbe come io faccio il parroco il parroco nella parrocchia rappresenta il vescovo allora il vescovo non è il vescovo perché l'altro il vescovo che sta a fa sta a salutare la scrivania nelle parrocchie ci stanno i parroci quindi lui non lo fa al pastore ma chi l'ha detto questa cosa qua capito dove sta scritto cioè nel nostro nel nostro procedere nel nostro pensare nel nostro ragionario adesso non vorrei in questi giorni ne sto uscendo fuori tutti sappiamo insomma la CEI si è radunata adesso c'è chi si c'è chi si sta disperando c'è chi si strappa la vestita io mi sarò mi sarò come dire rimbambito io insomma vedo ascolto ponderò insomma a mio avviso il problema grosso oggi e guardate questo perdonatemi se faccio questo inciso però stiamo in una radio stiamo in una trasmissione catechetica io penso che queste siano cose importanti cioè il problema di oggi amici miei è che noi stiamo in un mondo che è sintonizzato sulle reazioni immediate ed emotive perché ti arriva la notizia in tempo quasi reale e boom se tu la scrivi su un social nel social a meno che non sia la mia pagina facebook che è un'eccezione tu scrivi il post e ci deve essere subito una reazione e cominciano non fai manco in tempo aver letto la notizia che c'è già 40 commenti io devi mettere il 41esimo capito perché devi per forza di la tua capite questo modo di vivere cioè io capite cioè bisogna a mio avviso stare un attimo attenti cioè noi viviamo in questo mondo io sono il primo a esserci immerso insomma in questo mondo e devo ringraziare anche il mio lavoro con il mondo dei francescani dell'immacolata che c'è anche solo del buon consiglio che a suo tempo mi piace comprendere anche le suore gestiscono una radio l'importanza dei mezzi di comunicazione sociale come strumento di evangelizzazione quindi per carità non sono negativi in sé è certo che bisogna vedere l'uso che uno ne fa anche un social network può essere uno strumento di evangelizzazione certamente lo puoi vedere come cerco di farlo io cioè come una modalità facilmente accessibile con cui la gente che gli va di leggere un articolo di sentire un'umeria dice guarda che ieri ho fatto un'umeria su questo tema se ti piace ci clicchi se non ti piace giri pagina cioè semplicemente un modo per comunicare sto credo che vada bene però per esempio la discussione a mio modestissimo avviso da qui insomma parlo anche con persone che sono credenti che o chi ascolta queste cose qui a mio avviso non è che è una cosa fatta tanto bene cioè già la discussione di per sé se uno legge il nuovo testamento non fate contese non fate discussioni non c'è noi cristiani non agiamo in questo modo cioè il modo con cui diciamo anche la nostra non è mai quello della polemica della contesa dell'alterco ben meno che mai dell'insulto come sempre a casa capite e tu stai vedi certe dirette facebook brum mentre quello sta parlando diretta c'è gente che manco sente quello che dice sta lì arrivano 40-50 mila commenti in tempo reale chi insulta che cosa cioè questo stile questo modo io personalmente da sacerdote mi interrogo io ho delle forti riserve che sia una cosa fatta bene cioè secondo me qualche prete deve andare un po' a fare pure qualche schema per l'esame di coscienza comunque ci stanno i peccati che si commettono su internet cioè io devo rifare le catechesi sui dieci comandamenti sono datate sono obsolete perché non ne ho tanto parlato di queste cose perché ora le catechesi sui dieci comandamenti hanno 3-4 anni lo fanno fatte si ricorderanno le suore ma cioè adesso sta diventando una cosa pazzesca insomma capite pazzesca e cioè queste capite calma 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 cioè voi capite come può una persona imparare ad esempio a pregare a entrare in rapporto con Dio che Dio le cose te le dice ma te le dice nel silenzio te le dice nella preghiera fatta con calma non c'è Dio non è un jukebox capite tu gli dici gli chiedi questa cosa e te la risposta la pappa pronta non è questo ma pensate anche alla vita nelle nostre comunità parrucchiali no il papa la chiesa dice sempre l'ascolto il dialogo il discernimento no come caspita fai tu a metterti in ascolto se si cominciano a strillare a chi dice la sua a chi dice questo cioè non è possibile capite cioè lo stile no invito chi di voi non lo so fa parte dei consigli pastorali parrucci che ce l'hanno cioè lì c'è un modus cioè un consiglio pastorale non è mica un'assemblea di condominio cioè capite cioè per carità il consiglio pastorale non è il luogo dove stanno i sudditi del parroco i sudditi come dire che non c'è se c'è una cosa che tu devi dire la dici se c'è un consiglio che devi dare lo dai se c'è una cosa a cui non sei d'accordo ti esprimi a questo servono i luoghi per il dialogo ma certo che lo fai in un certo modo no cioè c'è uno stile c'è una modalità cristiana d'accordo quindi io penso che bisogna capite fare attenzione perché cioè guardate che il motivo per cui per esempio temi come la corretensione la mediazione fanno fatica anche un pochettino a come dire ad essere serenamente discussi è lo stesso è lo stesso è lo stesso di quello che anima i social network è lo stesso di quello che la CEI propone e pare che rende operativo una differente traduzione di un rigo del padre nostro e succede il finimondo cioè io allora in coscienza dico ma me sarò rimbambito d'accordo perché dico il finimondo per un rigo del padre nostro dico cioè fosse pure che c'è capite quando lo sappiamo cioè chi ha studiato le lingue classiche cioè adesso non voglio fare cioè sapete che tradurre ogni traduzione diceva buonanima di mia mamma che era professoressa di radine greca è sempre un'interpretazione ecco sempre e tradurre è sempre un pochino tradire perché tu non potrai mai rendere perfettamente se non attraverso delle perifrasi la sfumatura e il significato di una certa lingua questo vale per il greco questo vale ancora di più per l'ebraico per chi l'ha studiato capite però insomma uno si dice ma che sarà qualcuno mi faccia una mail per andare a capire dico ma che cioè mi sembra capite sono reazioni spropositate è come se te punge una zanzara e pensi che ti hanno sparato con il bazooka mi sembrano eccessive va bene adesso rientriamo un attimo nel tema scusate questa piccola cosa però su questi temi capite bisogna stare tranquilli perché vi ripeto questa cosa ci devo fuori perché la mediazione della Madonna aaaah eresia qui raffreggeremo nella Lumen Gentium San Paolo l'ha scritto nella prima lettera a Timoteo esiste un solo mediatore tra Dio uno solo dice non un mediatore allora interpretazione cosa vuol dire questo uno solo cioè che è proprio uno e guaghi sazzar da avvicinarsi oppure è il è il mediatore per antonomasia è il primo mediatore quello da cui dipendono certamente tutte le mediazioni ma non soltanto non esclude ma postula delle mediazioni dipendenti subordinate dalla sua questo è un problema di interpretazione questo qui capite perché se uno prende questa cosa alla lettera e in maniera esclusiva così lo fece Martin Lutero capite perché non è che Martin Lutero cioè che era che era come posso dire il più il più follo il più matto di tutti cioè noi dobbiamo sempre concedere concediamolo no si tramanda insomma che il secondo Lutero abbia poi un po' svalvolato anche da un punto di vista di rettitudine di vita no ma magari una persona che poi incede in tanti errori magari sta in buona fede quindi dice ma che c'è scritto qua certo c'era certamente un pochino di superbia insomma perché dice sai io sto nel 1500 la chiesa c'ha 1500 anni di vita com'è che prima di me ci ha pensato nessuno mi ritengo veramente così intelligente quindi questo certamente c'è però bisogna fare attenzione bisogna fare questo vale per tutte le cose capite come quando uno legge il Vangelo ah tua madre e i tuoi fratelli l'abbiamo visto sono vuoi e ti cercano ah Gesù ha quattro fratelli ah allora la Madonna non è vergine ah allora la chiesa cattolica prende in giro la gente come dicono i testimoni di Geova e ti prendono lo sproveduto che vanno a bussare porte te vedono sto cosa qui quello dice facci picchi c'è scritto proprio così te lo vanno a prendere in greco ve l'ho fatto vedere a suo tempo non in greco c'è scritto a del fos a del fos in greco esiste il termine per dire cugino vi ricordate quando ho dato la spiegazione quindi ragazzi bisogna stare tranquilli bisogna essere cauti calmi calma cautela pazienza soprattutto evitare sempre i climi brutti i climi di contesa i climi di alterco i climi della polemica non si campa più in questo modo qui cioè capiti i mezzi di comunicazione sono di per sé una cosa io continuo ad essere contento di vivere in questo tempo dove ci sono queste meravigliose risorse ma certo con uso di storto cioè io vedo ma anche le notizie telegiornali cioè un poveraccio che sta chiunque di qualunque colore abbia chiunque sia che oggi sta su al governo e non fa in tempo di fare una cosa che taria una montagna di critiche di cose di rimbalzi di tormenti tra le tv tra le social network cioè voi pensate il papa in un contesto di questo genere io non vorrei essere manco camicia capite ma manco camicia perché a queste cose noi dobbiamo pensarci dobbiamo pensare noi adesso ci agitiamo ci preoccupiamo ma siamo uno che è vissuto nel diciassettesimo secolo nel 1600 il papa stava a Roma ma se tu già stavi a Milano già era troppo se sapevi come si chiamava il papa perché tra l'altro nella messa antica chi la celebra lo sa la preghiera cristica viene detta sottovoce quindi non lo sentivi manco tu manca ammessa il nome del papa quindi già che tu sapevi come si chiama il papa c'era qualcosa ma di quello che faceva il papa di quello che diceva il papa tu non sapevi niente capite non sapevi proprio capite non è successo niente la chiesa è andata avanti capite chi stava in Germania in Svezia nel settimo secolo dopo Cristo ma che caspita ne sapevate quello che stava a fare il papa a Roma oggi non è più così capite allora questa cosa se è una grandissima risorsa è però anche un micidiale boomerang che ci torna indietro ti distrugge la vita ti avveliene i rapporti ti complica la vita in una maniera cioè stratosferica uno che sta al governo io sono parroco di una parrocchietta dai mille abitanti d'accordo però poi vi immaginate che significa una persona che ci abbia sulle spalle la responsabilità di governare una nazione di governare una dioce di governare una chiesa tu devi stare con la camicia gelata che per mezza cosa storta che te esce cinque minuti dopo sta già su tutti i social network e ti stanno già andando addosso a una montagna di fango di critiche ma come si fa a campare così non si può campare così allora io mi permetto se posso cioè di invitare almeno insomma buoni cattolici buoni credenti quelli che stanno ascoltando non dico di non farlo perché poi ognuno ha la sua coscienza e deve pensarci in queste cose però pregaci un po' sopra pregaci un attimo un po' sopra perché noi non possiamo fermare questi processi però possiamo chiamarci fuori io per esempio ho fatto una scelta piaccia o non piaccia io i social network li uso in questo modo gli amministratori dei miei social sanno che quando uno mi chiederà sono tutti benvenuti tutti quanti io do l'amicizia a tutti però tu devi sapere che questa è una bagacca di un prete che serve semplicemente a fornirti la possibilità di venire a conoscenza se ti interessa delle cose che facci in quanto prete d'accordo delle cose che scrivo delle cose che dico degli interventi che faccio delle cate ti interessano benissimo le vuoi diffondere benissimo se vuoi utilizzarle per cominciare a fare macello marasma discussioni insulti parolacce cose di questo genere mi dispiace ma non può essere non può essere non mi sembra una cosa fatta bene quindi liberissimo di dissentire per carità però siccome questa è la bagheca mia cioè il galateo di comportamento ti prego gentilmente se vuoi abitarci di accettarlo altri fanno diversamente io non giudico e non critico nessuno a me in coscienza sembra opportuno agire in questo modo allora vi invito ecco perché anche per raccapezzarci sui discorsi che stiamo facendo c'è ora sempre una grandissima parliamo adesso un attimo di questa mediazione che mi sto ecco però non credo di aver perso tempo insomma perché penso che queste considerazioni siano utili da un punto di vista catechietico allora abbiamo visto che Dio si manifesta attraverso il mediatore qual è il compito del mediatore il compito del mediatore è duplice il mediatore si trova tra Dio e il suo popolo media sta in mezzo sta in mezzo noi sappiamo che la figura della mediazione è conosciuta anche dalla legge civile esiste il contratto di mediazione esistono i mediatori oggi poi gli intermediatori finanziari sono i più grandi cioè chi sono? sono persone che mettono in contatto due soggetti per qualche cosa di utile per qualche cosa che li riguarda di qualunque tipo di qualunque titolo può essere appunto l'investimento come un mediatore finanziario può essere la conclusione di un affare come il mediatore che fa concludere un affare insomma procaccia una vendita qualunque cosa d'accordo quindi queste figure hanno questo compito quale è l'interesse diciamo così di Dio nei confronti dell'umanità farsi conoscere far conoscere il suo amore come sappiamo realizzare l'opera della salvezza quella che si chiama con termine tecnico l'economia salvifica qual è l'interesse del destinatario di questo provvedimento diciamo così di questa decisione il destinatario ha l'interesse di conoscere correttamente Dio di conoscere correttamente la sua opera e di imparare dal mediatore come interfacciarsi relazionarsi con lui sia attraverso le forme di mediazione sia attraverso il contatto personale che in un secondo momento il membro del popolo è chiamato a instaurare con Dio stesso questo c'è sempre stato abbiamo fatto prima una carrellata rapidissima lo troviamo scritto nei documenti Dio poteva salvare singoli no ha scelto un popolo dopo la parentesi dei primi capitoli della Genesi Adamo peccato originale decadenza dell'umanità Noè di Lugio universale e torre di Babbele chiama Abramo Abramo era una persona abitante in estremo oriente tutti quanti conosciamo la storia da Abramo dai suoi discendenti nasce quello che sarebbe stato il popolo dell'antica alleanza il popolo di Dio tutta la serie di peripezie narrate nell'ultimo capitolo del tempo della Genesi questo popolo si trova a essere in massa a un certo punto in Egitto in Egitto poi morto Giuseppe le cose vanno a finire un pochino peggio si ritrovano in terra straniera vengono soggiocati come schiavi e rimangono per 500 anni fino a quando non sorge il grande condottiero Mosè da quel momento in poi la storia ebraica è un continuo succedersi Mosè Giosuè i giudici e poi comincia il ciclo profetico Samuele Elia i grandi profeti maggiori poi Israele vuole farsi un re il re per certi aspetti media alcune cose da parte dell'altissimo anche se l'altissimo non voleva che il suo popolo prendesse una configurazione politica come gli altri popoli ma questo vogliono qui bisogna andare a leggere le preghiere ai tempi di Samuele che portarono all'elezione del primo re di Israele che fu re Saul a un certo punto gli dice lascia perde vogliono il re e dagli il re facendo questo hanno ripudiato me non te accontenta e da quel momento comincia il ciclo del regno di Israele e la lunga storia del regno Davide e Salomone hanno un apice però Salomone va a finire purtroppo malamente finito Salomone il regno di purtroppo di Israele si spacca in due il regno del nord il regno del sud e gli assiri nel 721 fanno secco il regno di Israele il regno del nord e distruggono tutto rimane il regno del sud fino ai tempi degli ellenisti perché dopo con l'avvento dell'impero romano i re come sappiamo insomma diventano dei fantocci come era Erode cioè delle figure che te le lasciano tanto per dati il contentino ma completamente esautorate di quasi tutto il loro potere però parallelamente all'attività dei re continua l'attività profetica c'è sempre questo ministero di mediazione di mediazione il profeta che parla a nome di Dio dice guarda che ragazzi le cose stanno andando male bisogna rimettersi in carreggiata oppure le promesse verrà il Messia verrà il Redentore verrà il Salvatore tutto quello che attraverso i quattro profeti maggiori e i dodici profeti minori Dio va realizzando come un suo popolo arriviamo al nostro Signore Gesù Cristo il nostro Signore Gesù Cristo è il mediatore per Antonomasia perché il mediatore è colui che ha il compito di farci conoscere chi è Dio di farci conoscere cosa pensa Dio di farci conoscere cosa vuole Dio e di metterci in contatto con la salvezza che vuole operare nella persona di nostro Signore Gesù Cristo è inutile dire che tutte queste funzioni vengono svolte in maniera assolutamente perfetta perché Dio stesso che attraverso la sua umanità che è lo strumento di mediazione per Antonomasia opera tutto questo ma al tempo stesso capite Gesù è anche svolge anche la funzione come dire non soltanto discendente della mediazione ma anche ascendente perché lui come uomo come nostro fratello capite perché lo è per ora davanti al Padre e quindi intercede a nostro favore la nostra causa questo aprirà poi il tema che è quello ulteriore e che si fonda appunto su questo principio dell'intercessione di Gesù presso Dio che è l'ultima parte delle nostre conversazioni che faremo su questo argomento del fatto che la Madonna è l'avvocata dell'umanità oltre che la mediatrice il compito del mediatore è comunque fondamentalmente un compito discendente è anche il compito di raccogliere ripeto cioè il sacerdote specialmente cosa fa prende le cose che i fedeli gli portano da sacrificare al Signore le richieste di preghiere le prende e le porta a Dio la funzione sacerdotale era tipica già nell'Antico Testamento la lettera agli ebrei spiega come Gesù abbia assolto a tutto quello che veniva fatto dell'Antico Testamento come ombra e immagine delle realtà future in maniera perfettissima con tutta la teologia dei riti del Tempio del giorno dell'espiazione del Santa Sanctorum insomma che è su tesare letterale ebrei capite che approfondire adeguatamente questi argomenti vi chiederebbe centomila puntate insomma quindi li sto semplicemente accennando ecco detto questo la mediazione di Cristo attenzione non è finita con lui ma la mediazione di Cristo è passata para para nella Chiesa Cristo ha un vicario in terra che è il Papa Cristo ha tra virgolette dei vicari cioè che ne rappresentano sacramentalmente realmente le funzioni di capo e pastori nei vescovi ha i suoi rappresentanti e collaboratori dei vescovi nei sacerdoti Cristo continua a parlare attraverso la voce della Chiesa e del suo Magistero Cristo continua a salvare anzi mette a disposizione l'opera della salvezza da lui compiuta principalmente attraverso i sacramenti che la Chiesa amministra e che sono i canali attraverso cui la grazia che lui ci ha conquistato arriva a noi quindi la mediazione è assolutamente imprescindibile capite quindi assolutamente è proprio strutturale nel rapporto tra dirlo ora ci introduciamo al nostro tema leggendo come sempre il testo della Lumen Gentium fondante cioè il numero 60 dove parla di Cristo unico mediatore e di Maria leggo le sue testuali parole uno solo è il nostro mediatore secondo le parole dell'apostolo non vi è che un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini l'uomo Cristo Gesù che ha dato se stesso in riscatto per tutti questo l'abbiamo già avuto modo di citare ora la funzione materna di Maria verso gli uomini non oscura né in alcun modo sminuisce l'unica mediazione di Cristo ma ne mostra piuttosto l'efficacia infatti attenzione ogni influsso salvifico della beata vergine sugli uomini non deriva da ragioni di necessità ma dal beneplacito di Dio sgorga dai meriti sovrabbondanti di Cristo si fonda sulla sua mediazione e da essa totalmente dipende attingendone l'intera sua efficacia e nemmeno impedisce il contatto immediato dei credenti con Cristo ma anzi lo favorisce oggi oggi volevo soltanto leggere capite subito cioè se uno come dire punta bene le orecchie capisce la portata pesantissima di questo di questo numero e come vada ben sviscerato lo faremo nella prossima puntata vorrei assoluto introdurlo quindi c'è una funzione fondante fondamentale costitutiva di Cristo da cui ogni altra mediazione attuale dipende la chiesa non esisterebbe se non ci fosse stata la mediazione primordiale di Cristo d'accordo non esisterebbe proprio perché i ministri di Cristo i vicari di Cristo appunto esistono quanto vicari di Cristo i sacramenti esistono perché Gesù Cristo ha sofferto ed è morto in croce perché se non c'era il venerdì santo i sacramenti non esistevano i sacramenti della nuova alleanza questi non sono riti come erano quelli dell'antica alleanza queste sono trasmissioni efficaci della grazia che Gesù Cristo ci ha conquistato per noi con dei singoli effetti specifici per sei sacramenti su sette e per uno super che è l'Eucaristia che non contiene soltanto alcune grazie ma contiene l'autore della grazia ed ha una multiforme modalità di attuazione perché sapete che l'Eucaristia è santo sacrificio della messa è santa comunione sacramentale ed è presenza reale e perpetua di Gesù in mezzo a noi quindi quello che appuriamo è che diciamo così la forma mediazionale non so come dirlo la forma mediata che Dio ha voluto avere per manifestarsi rivelarsi e salvare gli uomini già ampiamente attuata nell'Antico Testamento trova in Cristo la sua perfetta attuazione il culmine l'apice da lui sia quelle che sono venute prima sia quelle che verranno dopo e che da lui dipendono traggono origine sorgente ed efficace sono tutte da riferire a lui sono tutte a lui subordinate e tra queste ce n'è una del tutto particolare che è quella della Madonna come vedremo attenzione a notare subito una cosa non si tratta di necessità ma si tratta di bene placito divino quindi una chiave di lettura fondamentale che vedremo anche nel fatto che la Madonna è una mediatrice di tutte le grazie cominciamo subito a mettere in testa una cosa questa cosa è così perché Dio ha voluto che lo fosse poi dovremo volgere bene lo sguardo a Maria per cercare di se ci riusciamo di dare fuori qualche buon motivo per cui Dio ha voluto che così fosse perché Dio ha sempre dei buoni motivi nel suo operare siamo noi che non li conosciamo e non li comprendiamo d'accordo di tutto questo cominciamo a parlare dalla prossima volta però l'importante è che ci basti di aver capito e ricordiamo anche questa cosa fondamentale che il rapporto con Dio viaggia su queste tre lunghezze d'onde come popolo con l'ausilio necessario e imprescindibile di alcune forme di mediazione e nell'apertura ad instaurare dentro un popolo e attraverso e senza mai escludere le forme di mediazione un rapporto intimo proprio e personale con Dio ecco il resto lo comincieremo a approfondire se ti vuole dalla prossima una santa settimana a tutti con la mia benedizione Ave Maria e la mia è la mia è una santa settimana Grazie a tutti